ciao com'è andato il weekend a bene che hai fatto di bello sono stato al cinema un bello a vedere che il nuovo film di indiana jones ci devo andare e com'era l'inizio era bello poi non ho potuto vedere come continuava e perché mi hanno fatto uscire dal cinema come mai beh siccome non avevo cenato mi sono portato qualcosina da mangiare ma sai che non va fatto quindi facevi rumore no ci stavo attento mi ero messo in cima dietro per non farmi vedere e non dare fastidio stavo anche attento a non fare rumore e allora come mai beh perché hanno iniziato a sentire l'odore e d'un po' li ha indispettiti ma non è solo questo cos'altro sono stati parecchio formali quando la grigliata ha iniziato a fare fumo